My heart is a ghost town Benvenuti in leggenda SPAG, qui è Francesco Almasio e oggi voglio parlarvi di come potermi seguire su youtube questo è un video aggiornamento rispetto a quello che avevo già fatto in precedenza ma in questo modo avrete tutti i link principali che trovate soprattutto nella descrizione dei miei video e vi consiglio se non l'avete ancora fatto di seguire sempre tutti i link che vi lascio in descrizione perché magari posso sempre aggiornare qualcosa e quindi questo video magari non è aggiornatissimo però troverete sempre i link anche in questo video cercando di tenerlo aggiornato in descrizione andiamo subito a vedere i vari link partiamo ovviamente dall'about in modo tale che potete sapere chi sono, cosa faccio e inoltre i link principali a youtube, twitter, google plus, instagram, linkedin, spotify e foursquare altra cosa molto interessante e utile è che mi seguiate su telegram quindi ho due canali, leggenda's bug, love today gaming e leggenda's bug fan che in questo caso qua è un super gruppo quindi unitevi, troverete anche vari youtuber famosi ed è molto utile per poter parlare un po' liberamente anche con me oltre che parlare di tecnologia e lato gaming ovviamente poi vi lascio ovviamente i link per quanto riguarda Discord che è un'alternativa a TeamSpeak troverete anche il link per TeamSpeak che è in collaborazione in qualche modo con AlexZ in cui mi ha lasciato una camera anche per me appena possibile cercherò di sfruttarla al meglio poi abbiamo il canale Twitch dove ogni tanto faccio delle live in particolare per registrare le serie ma ogni tanto anche faccio delle live quindi seguitemi anche su Twitch è molto facile da utilizzare inoltre ha delle applicazioni, delle funzionalità che youtube per il momento non permette quindi seguitemi perché innanzitutto i feed sono più funzionali e poi la qualità e l'immediatezza anche di caricamento immediato dei video è svalorditiva in pratica quando finisco una live dopo pochi secondi è già possibile riguardarla dall'inizio alla fine oltre al fatto che posso esportare tali video su youtube poi abbiamo Twitter che è il mio account diciamo principale che utilizzo Twitter lo utilizzo molto spesso per condividere notizie e altre un po' come faccio con i canali ma qua molto di più poi Google Plus in pratica troverete sempre tutti i video caricati lo utilizzo più che altro per quello ovviamente quando io carico un video me lo pubblica in automatico su Google Plus poi abbiamo Instagram molto utile quindi aumentiamo i follower se possibile condivido sempre notizie ogni tanto faccio live per parlare un po' con voi quindi un po' per conoscersi un po' meglio seguitemi anche qua abbiamo poi la pagina Facebook questa qua la utilizzo un po' poco però ogni tanto la utilizzo quindi se avete bisogno a mandarmi qualche messaggio o informarvi per qualcosa troverete qualcosa qua devo dire che la utilizzo molto poco rispetto a prima perché ormai con Telegram e soprattutto con Twitter diciamo che questo genere di pagine è veramente poco utilizzato poi volevo mostrarvi alcune cose ovvero sono presenti nella mappa di YouTube Italia creata da Francesco Sniaolin che è un altro YouTuber e sono presenti la maggior parte di YouTuber sapere esattamente dove sono e praticamente è stato tutto gestito anche tramite il gruppo YouTube Entertainment presente su Facebook che è un gruppo non di spam ma di aiuto per parlare un po' di YouTube in generale e delle novità di YouTube inoltre vi consiglio se non l'avete ancora fatto di utilizzare ok sherlock.com perché vi permette di avere le statistiche abbastanza aggiornate comunque ho fatto molto bene dei canali italiani su YouTube molto ben fatto vi mostro anche gli argomenti trattati nel mio canale come vedete la maggior parte adesso sono giochi e poi tecnologia i tag principali dei video gli ultimi video la possibilità di monitorare anche le iscrizioni in live le varie statistiche per giorno quindi potrete capire anche in quali giorni si hanno più visualizzazioni o meno le statistiche in generale con andamento iscritti andamento visualizzazioni e andamento caricamenti e inoltre la possibilità di vedere chi consiglia il nostro canale e per finire non è obbligatorio però se avete l'opportunità vi do la possibilità di fare donazioni con Paypal tramite questo servizio che si chiama Streamlabs è molto utile per me per potervi cercare di portare avanti il canale e soprattutto per portarvi sempre materiale nuovo quindi se avete voglia di supportarmi in qualche modo potete farlo lo stesso viene fatto anche tramite Nightbot quindi verrete sempre informati tramite Twitch e tramite il bot quando faccio un live su YouTube quindi troverete come sempre i link dell'attività e di tutto in descrizione spero questo breve video anche se è stato penso un po' a lungo vi sia piaciuto e lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto troverete come sempre tutti i link dell'attività in descrizione e anche per potermi seguire e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi